Questa è dedicata al mio maestro Sarto, Pesatour, detto alla Caudrana Manera. Un maestro mio, Toton, sorgiuto al maestro di Toton e Pesatour. Sì, da quando ero creatore, per imparare l'arte e per sapere campare, per stare in mezzo all'auto e ben ghiacchiare. Un maestro era un secondo d'altà, che ero pure come essere cristiano. Lo maestro mio, un'artigiana eccellente che tenga a dir, ha tornato sempre una grande mente, per lo mestiere sui non era scoloso. Anzi, con noi ero sempre scrupoloso. Non voglia bene come fossimo figli. Non impartia tanti buoni consigli. Era credente assai, religiosa, possa l'anima soio o lo s'antroposo. Maria Teresa Maffucci. Grazie.